Rieccoci insieme, adesso c'è lo sport tra mercato e campionato. Le siciliane di Lega Pro hanno e vivono giorni particolarmente intensi. Domani c'è da segnalare anche la possibilità che venga diffusa la sentenza sull'inchiesta di Irti Soccer che vede coinvolto anche l'allenatore del Messina, Arturo Di Napoli. E' una settimana da vivere tra mercato e campionato per le tre siciliane di Lega Pro. Il Catania domenica è atteso dall'impegno più difficile delle tre al massimino contro il Matera. La squadra forse più in forma del girono in questo momento. Pancaro deve fare i conti con l'assenza e lo squalificato Pelagatti e l'infortunio di Bergamelli che si proverà a recuperare sino all'ultimo. Scalpitano Bastrini e Ferrario, almeno uno dovrebbe giocare dal primo minuto. Sul fronte mercato c'è sicuramente l'ipotesi crialese in uscita dalla Cremonese ma sfumato Giannone si cerca soprattutto un esterno offensivo. A Messina l'attese per la sentenza di Irti Soccer che potrebbe arrivare domani. La squalifica per Arturo Di Napoli impedirebbe all'allenatore di sedersi in panchina già da sabato nella sfida col Monopoli. Una partita importante in chiave salvezza per i giallorossi. Continuano ad essere indisponibili Palumbe e Cocuzza. Per sabato dovrebbe essere confermata la stessa formazione della partita di Ischia con l'unica eccezione del rientro di Parisi dal primo minuto. Sul fronte mercato sempre vive le piste Barisic e Scardina ma prima bisogna vendere. In uscita ci sono Berardi, Frabotta, Biondo, Barraco e Leonetti. Ad Agrigento l'arrivo di Rigoli e la vittoria di Monopoli hanno ridato entusiasmo e fiducia all'ambiente. La concessione pluriennale dell'Esteneto è un'altra buona notizia per i biancazzuri. Adesso contro il Cosenza, di certo non una partita facile, bisogna spezzare la maledizione proprio dell'Esteneto. L'Agragas ci ha giocato sette volte e ha sempre perso. Rigoli punta forte su Madonia che da esubere è diventato l'elemento centrale del progetto.